non possono esserci i calcoli oggi si deve vincere e basta tre punti per gli obiettivi in attesa del big match di Europa League ora occhi sul campo perché i cuori bianco celesti devono vibrare ancor di più tanto via partiti per questo match gran palla verso Immobile Immobile attenzione si zetta sul pallone Pugioni tocca il pallone con il braccio fuori dall'area rosso diretto Calvarese non può avere dubbi e allora inferiorità numerica quasi per tutta la partita attenzione però ancora Felipe Anderson dentro verso Immobile posizione regolare Immobile eccola la chiave eccola uno a zero Ciro Ciruzzo palla in profondità da Felipe Anderson Immobile la mente dentro al diciannovesimo segna Ciro e si distanza nuovamente da Icardi anche per la classifica marcatori la la sbloccata con pieno merito poi Giuricic provando a andar via ancora Giuricic va tutto da solo ancora Giuricic stracoscia in calcio d'angolo con un brivido Fischia Calvarese va a Cataldi e il gol del Benevento Cataldi ha segnato e ha chiesto scusa Luiz Alberto la scodellata per Patrick attenzione palla verso Immobile che fa centro ma c'è raggiata un po' la bandierina alzata dell'assistente Vivenzi uno a uno tra Lace e Benevento il gol di Immobile al diciannovesimo di Cataldi al ventitresimo e giù il pallone Luis Felipe attenzione buona chance quattro contro tre Luis Alberto Felipe Caicedo cerca il piazzato Felipe Caicedo Brignoli occhi a Ghierme palla lunga verso Lombardi lo scatto con Patrick ancora Lombardi attenzione la palla è uscita poi palla dentro attenzione il gol del Benevento Ghierme ha segnato Ghierme la palla probabilmente non era uscita del tutto ma dopo il gol alla Roma Ghierme segna anche a noi Patrick attenzione tentativo di cross col sinistro Patrick Brignoli in calcio d'angolo ancora Luis Alberto Felipe Caicedo quindi Lucas Leiva sottrae il pallone a Lombardi poi Luis Alberto ancora verso Caicedo Caicedo Felipao prima gala all'Olimpico in Serie A Felipe Caicedo che esulta e mette le cose a posto c'è tempo per cercare il 3 a 2 deve sacrificarsi i cataldi sulla fascia poi pallone verso Immobile non ce la fa più neanche Tosca attenzione Felipe Caicedo Felipe Caicedo Brignoli calcio d'angolo per la Lazio ok Immobile sul secondo palo Luis Alberto palla poi verso De Frai e garete della Lazio ancora Steph 3 a 2 situazione ribaltata De Frai ci ha pensato lui ancora una volta in stagione si sta scatenando ok Immobile che è partito in campo aperto Immobile 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 sempre lui 4 a 2 Ciro Ciruzzo 23 minuti della ripresa Immobile ancora lui Patrick attenzione Lucas Leiva c'è il cantire porta Lucas Leiva Lucas Leiva non poteva mancare il sigillo del brasiliano record assoluto di gol in stagione per il brasiliano un gol pazzesco segna nuovamente come contro il Bologna altra gran palla per Nani che friscia a terra vediamo calcio di rigore per la Lazio calcio di rigore per la Lazio Nani vuole subito il pallone Luis Alberto è un gol particolare perché il gol è dedicato al suo amico Carlos è scomparso due giorni fa anzi tre giorni fa è finita 6 a 2 per la Lazio è finita con un trionfo bianco celeste ed era la vittoria che serviva a grazie a tutti